Beh sì, ditemelo voi, se è una cosa strana, magari capita, però dopo un mese e mezzo in cui noi chiedevamo un confronto, questa mattina, grazie a... magari, non so, da oggi scopriamo un nuovo modello, cioè quello che se vuoi chiedere un confronto al Comune di Teramo devi fare una conferenza stampa perché se no non ti calcolano, perché anzi, non solo non ti calcolano, ma ti rispondono e ti minacciano pure, perché questo hanno fatto il Comune, perché questa è una cosa grave che io gli sto cercando di far capire, ma ancora non ci rispondo, ancora non si è scusata per una lettera vergognosa che il Comune di Teramo ha scritto settimana scorsa a questa organizzazione sindacale, negando il confronto sindacale e dicendo che si rammenta che questo comportamento potrebbe turbare il bando di gara, come se un interesse pubblico, un bando di gara, i servizi pubblici che tutti noi contribuiamo a pagare, un servizio pubblico che viene considerato d'eccellenza quello degli asili nido del Comune di Teramo, un sindacato che si pone una questione, ossia la casetta sul fiume che devono fare i lavori, quindi che fine fanno i bambini, le lavoratrici che fine fanno il loro posto di lavoro dopo giugno che scade il bando di gara e il servizio d'eccellenza come farà a continuare ad essere vogliamo discutere il bando di gara, dopo queste tre richieste gli si iscrive questo, a un'organizzazione sindacale, una cosa vergognosa, si devono vergognare, oggi ci ha risposto nel merito della questione, si è scusata, io non lo so, ditemelo voi perché all'inizio ho detto che condivideva quello che avevamo detto noi, io quindi io non lo so che sinceramente che cosa pensare, questo chiedetelo a lei veramente perché a questo punto inizio ad avere dubbi su quello che io capisco, però sinceramente non si fanno così le cose, mi dispiace ma non si fanno così le cose. Voi volete andare dal prefetto? No, noi ci andiamo dal prefetto, ieri le abbiamo scritte per la procedura di raffreddamento perché per due motivi, intanto per attivare la procedura di raffreddamento per le lavoratrici, perché ci sono 40 donne, giovani, che dicono ma noi dopo giugno cosa facciamo? Qualcuno gli dia una risposta ufficiale nero su bianco, ma io credo, ma siamo nel 2024, siamo nel 1945, primo, seconda cosa, al prefetto di questa provincia io gli voglio chiedere se un ente comunale si può permettere di scrivere in una lettera che un'organizzazione sindacale turba un bando di gara, perché questo vuol dire minacciare, noi siccome non ci minacciano in nessun modo, adesso io ci voglio vedere chiaro fino all'ultimo, anzi adesso sì che ci voglio ai sospetti, perché se un comune mi scrive una cosa del genere, vuol dire che qualcosa non mi quadra, quindi non solo non si devono azzardare più a scrivere in un'organizzazione sindacale, peraltro la Costituzione che qualcuno cita, perché qualcosa va bello a citare la Costituzione, qualche professorino di diritto costituzionale cita la Costituzione, nella Costituzione ho scritto la libertà sindacale, l'organizzazione sindacale c'è una libertà, la libertà, perché la Costituzione gli dà la libertà? Proprio perché noi nel giusto, nel sbagliato, può essere pure che sbagliamo, ma dobbiamo essere liberi di poter dire al Comune Termo, incontriamoci su questo, diteci su quest'altro, su quello che interesse pubblico, cavolo un bando di gara sul servizio pubblico del futuro di questa città, perché ricordiamoci, noi stiamo chiedendo conto di un servizio che riguarda il futuro di questa città, bambini e bambini, e se non ci preoccupiamo dei bambini e bambini di questa città, ma di che cavolo ci dobbiamo occupare in questa città? Mi dite? No io oggi non mi aspettavo nulla, perché adesso francamente, ecco dopo questo io sinceramente non so più che aspettarmi, cioè adesso ormai ne vedremo di più, non so al prefetto che succederà, andremo in prefettura e magari faremo uno sketch. Qui c'è un confronto sano, nel merito delle questioni io ho un'opinione, ma qui il confronto ha necessità di ore e ore, cioè per esempio su quello che ha detto, su alcune cose mi convincono, alcune cose mi convincono molto poco, cioè la commissione di sicurezza tra pubblico e privato si fa, il decreto 81 lo prevede, sul fatto che devo fare un bando biennale perché ho la casetta sul fiume solo due anni, mi convince poco perché io quello che devo andare a vedere è il numero dei bambini, al di là del fatto della struttura. Altra domanda, che è una curiosità da cittadino e da organizzazioni sindacali, ma se c'è una struttura che gli devo fare a due anni, è possibile che il Comune di Termo non abbia un'altra struttura di vita per l'esilino? Una domanda, una domanda semplice, hanno fatto una ricognizione dei locali che abbiamo? Possiamo introdurre tra virgolette delle novità rispetto a verificare quali sono i nostri locali? Dico, chiedo, è stato fatto? Ecco, ma questo è il confronto.